Cominciare così è davvero bello, no? Eh sì, puoi dirlo forte! Sì, sì, siamo molto contenti, abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo gestito bene il vento che continuava a cambiare oggi e super vale perché è stata veramente, veramente brava oggi! Anche te, è un'ottima prima di tutto! Vale, insomma, torneo dopo torneo si cresce, si prende sempre più confidenza, si trova i giusti equilibri, insomma, come stai crescendo? Questo è l'obiettivo, crescere partita dopo partita, quindi prendiamo il meglio di ogni partita, anche le sconfitte, e cerchiamo di migliorare! Stai facendo rigiovanire anche Marta? No, hai già giovanito! Mi fa sentire meno anziana, è vero, è vero! No, Marta, insomma, cominciare così con una vittoria mette già il torneo in un certo indirizzo, anche perché era la coppia più forte del girone sulla carta, quindi adesso gli obiettivi diventano ancora più interessanti, no? Sì, sì, ma noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo a fare la nostra meglio prestazione giorno dopo giorno, domani un altro giorno, oggi è andata molto bene, siamo contenti, però ora il focus è sulla prossima partita!